Tempo a Milanello, una giornalista è stata urtata leggermente dalla macchina di Zlatan Ibrahimovic che lasciava il centro sportivo, la ragazza è rimasta contusa, contusa ad una mano dopo l'urto fortuito con lo specchietto della vettura dell'attaccante svedese, eccolo, facciamo rivedere ancora soccorso ad un'ambulanza, è stata portata in ospedale, perde controlli ma sta bene Torniamo a parlare